Sì, direi di sì, soprattutto sotto il punto di vista della concentrazione, dell'agonismo noi diciamo sempre giusto metterci la cattiveria ma quella agonistica, mai cercare di far male all'avversario ma sempre lottare su tutti i palloni e anche quando sei in vantaggio 3-4-0 la partita non è mai finita quindi noi non ci arrendiamo mai e continuiamo a segnare Puntate a vincere il torneo, siete una delle papabili, come si dice? Noi puntiamo ad arrivare secondi e a passare il turno perché poi arrivare primi tutti ti guardano in un certo modo, stanno tutti un po' più attenti invece come secondi nessuno si aspetta la sorpresa quindi dopo cercheremo di venire fuori dopo, alla lunga Bene, grazie e complimenti Arrivederci, grazie